Grazie a tutti. Guarda un po' chi è qui, là. Ci vedremo alle 11 con il PD del Movimento 5 Stelle per concordare insieme il comportamento in aula. Allo stato attuale mi sembra che l'orientamento sia verso una scheda bianca. Grazie a tutti. Personalmente certo ho degli auspici, riguardo con interesse al settennato appena passato, alla capacità che ha avuto il Presidente Mattarella di guidarci nei momenti difficili e nei momenti complicati. Credo ci sarà nei prossimi giorni, oggi e domani, sicuramente una chiarezza maggiore. Una persona che è, diciamo così, non partigiana, non di parte, ecco, che sia comunque al servizio di tutti gli italiani, compresi anche i Novax. Perché penso che sia il miglior candidato anche per l'estero e poi dura sette anni.